Siamo al Montefalcone Social Cup e stasera siamo a quando? Antonio Lorenzo Bene, allora il match è terminato. Cosa volete dirci? Una bella partita, tirata al massimo, ci siamo sudati. Ogni game? Ogni game. Siamo divertiti, sudati. Chi ha vinto? 2-6-0 e ci siamo divertiti un po' sul terzo, però complimenti all'avversario perché è stato un ottimo avversario. Sì, sì, sì. Com'è? Sì, sono da 0-0, una vantana su tutte le basi e abbiamo lasciato anche un po' la giovanità, magari. Abbiamo un vantaggio. La bella partita e speriamo di incontrarci in un po' di loro. Voi, sicuramente ci siamo. Ci vediamo alle prossime partite. Avete già apro, grazie? Questa è la mia partita. Ah, ok. Ok, quindi vabbè, ci vediamo sempre al prossimo. Questa abbiamo avuto al primo. Ottimo risultato. Va bene, grazie mille. Potrebbero essere loro i secondi. Potrebbero. Vabbè, quindi ci siamo. Grazie mille. Ciao. Grazie.